Settimo anno di vita per lo You Festival, la rassegna che mette in mostra alla ginestra i gruppi musicali emergenti di tutto il Val d'Arno. Appuntamento il 4 e 5 luglio all'Anfiteatro Montevarchino, il bando è tuttora aperto. È in corso il bando che finirà intorno al 20 giugno, si possono iscrivere tutte le giovani band rock e dintorni toscane. Il premio quest'anno sarà l'accesso alle due serate finali con degli ospiti, due appuntamenti importanti. E poi queste serate verranno registrate per cui sei gruppi finalisti, vincitori anzi, torneranno a casa con la registrazione della loro performance lì dal vivo. E poi un brano ciascuno verrà messo in una compilation, un disco, che sarà un po' in fondo la fotografia della produzione musicale giovanile della nostra zona. Sulla creazione del CD ed in pratica il riconoscimento per tutti i finalisti, insiste molto anche l'amministrazione comunale Montevarchina. Giusto che un po' di restyling ci sia dopo un po' di anni, appunto in aggiunta quest'anno, come diceva Gian Piero, ci sarà una compilation che premerà quindi di fatto tutti i finalisti con CD della manifestazione. Ci saranno dei seminari per approfondire sia il rapporto alle case discografiche che con gli artisti, con la partecipazione di Enriquez e della banda Bardot. Seminari che verranno fatti nel mese di giugno, quindi prima dell'iniziativa, e aperti non solo alle band dell'Ufestival ma a tutte le band che vorranno partecipare. Quindi spero che siano due giorni davvero di grande festa e grande partecipazione.